quando il caffè è pronto e il suo aroma ti dà il buongiorno quando cerchi le chiavi ma poi le ritrovi lì al solito posto quando sposti per la terza volta un quadro e lo rimetti dov'era quando porti il lavoro a casa e neanche ti dispiace quando devi nascondere un regalo e hai trovato il posto giusto quando anche al buio riesce a orientarti beh non sempre quando senti il profumo di lukato e ti ricorda la mamma quando sul muro ci sono i disegni dei bambini e ti sembra di essere in una galleria d'arte quando il frigorifero è pieno di calamite e ognuna di loro racconta una storia quando inizia il tuo programma preferito e non vedi l'ora di guardarlo con loro quando sono le piccole cose a darti la felicità allora sei a casa